Certo, ma anche anch'io Ma la prima c'è comprato Bellissimo Bellissimo Quindi tanto posso salutare la mia genziera, bellissima Sono innamorati di questo completto Veramente belli Bellissimo E di andare via, sapete, questa settimana è molto Ma molto intensa, io l'amo Però molto intensa Vi volevo raccontare che Batta festeggia i suoi 130 anni Con la ballerina capsule Che adesso vi faccio vedere un po' Sopportando l'empowerment femminile Nella danza, quindi mi piaceva tanto questo Questo progetto Vi faccio vedere perché sono delle ballerine Ce n'è una qua Molto ma molto belle E vi voglio far vedere che le potete usare tutti i giorni Ve li faccio vedere La ballerina si ispira a una calzatura iconica del passato Reinterpretata in una chiave contemporanea Ovviamente disponibile Come potete vedere in tre varianti Questo cipria Scicchissimo Questo verde salvia E questo Celestino Carta da zucchero Devo dire che è bellissimo Hanno l'elastico Sono super comode Adesso vi faccio Vi faccio vedere magari qualche avvinamento E hanno ovviamente come le ballerine I suoi laccetti che potete girare intorno alla vostra gamba Nell'abbinamento che ho fatto Queste io ho scelto oggi Queste qui Azzurrini Che devo dire Se avete che sono infiso Con il blu Con il cerese Con tutti questi colori Ovviamente li troverete come vi ho detto Negli altre due varianti Sia sono online Quindi vi lascio il link Se potete dare appunto un'occhiata Altrimenti potete passare Sui negozi di Batta E provarle Io per darvi ecco anche un aiutino Indosso un 40 Magari vi può interessare Appunto per scoprire tutta la collezione di Vata Domani a Milano In Corso Buenos Aires 51 Dalle 16.30 alle 18 Troverete come special guest Megan e Maddalena Quindi oltre a conoscere appunto Scoprire tutta la collezione Conoscerete anche loro Che sono veramente uno spazio E magari potete chiedere anche Anche qualche passetto Per imparare a muovere per bene il vaccino Perché loro lo sanno fare molto molto Sui clip avete ancora qualche ora Per approfittare della flash sale Vi lascio un codice sconto Per avere appunto un 20% di sconto in più Su la vostra spesa E niente Vado a rilassarmi con questi due cucci In деньги Per lo sanno fare più Per lo sanno fare più E ho Per lo sanno fare più Grazie a tutti. Grazie a tutti.